E ragazzi, come va? Io sono FieriNiki E io sono Steffa, che sta a giocare Magimod E stiamo qui con un nuovissimo episodio del Propant Insieme a Espigiochi e Luca Esattamente, abbiamo scelto una mappa di Minecraft Perché sono davvero fatte bene Cioè, che è una Minecraft, non trovo molte differenze Sono carine E soprattutto, e non lo sapevamo Mentre stavamo registrando Ci sono dei posti segreti Non so se vi ricordate, magari qualcuno che ci segue Tanto si ricorda, Wizard Daddy Su Minecraft, c'erano tantissimi posti segreti Ecco, questa mappa è uguale Ci sono diversi posti segreti super fantastici Li abbiamo scoperti tutti durante il video E hanno fatto morire da ridere Sono bellissimi, aspettatevi di tutto Sono davvero fantastici Esattamente, ovviamente ricordatevi di passare dal canale di Espigiochi E partiamo con il video Andiamo a costruire una casetta di Minecraft Lasciami una nascondere Non dobbiamo fare casette Muoviti Ma scusate, allora perché siamo in una mappa di Minecraft? Venite qua, facciamo una casetta di questi Venite qui Dove sei? Perché Steph, perché Steph si è diventato No, 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 aspetta Luca Aspetta, no, no, aspetta Vieni Espi No, aspetta Luca Ah ma io pensavo fossi questo Espi Secondo te facciamo una casetta di quelle cose Aspetta Espi non ha senso Espi, espostati Espi Qui, 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 Espi È perfetto È perfetto Lo so, lo so, lo so, lo so Stiamo così Vai Luca, puoi partire, puoi partire Non ci troverà mai Allora, lo vedete Luca? Io lo vedo Io lo vedo Vediamo Lo vedo anch'io Lo vedo anch'io che cerca Guarda come sparo Guarda come corre È troppo vicino Dai Espi è lontanissimo ancora Stringimi, stringimi rami È molto lontano Cioè volevo dire Per favore Corre Scraziato Ma come hai fatto a vederli Luca? Come hai fatto? C'erano dei ramoscelli Che dicevano Stringimi rami Espi Non ce la fa Non dare indizi Patteggia Patteggia Porta di risafere Ok Però Però Tutte le cose Sulla mia fedela penale Le cancelli Vero? Così posso candidarmi Alle prossime elezioni Allora dovrebbe essere di qua Perché l'ho vista sparire Da quest'altra parte Vedi di qua Aspetta Basta Sei stata abbastanza utile Però guarda Luca Guarda Luca lì sopra Guardalo come sta guardando tutti Ciao Luca Saluta Ciao Due minuti Luca Due minuti Non mi ricordavo Questa anguria qua Ah sì? Come mai? E forse sei stato sbadato Anche secondo me Luca Prova a spingere Magari si muove Non è giusto Avevamo quasi ingannato Arriva 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 Aspetta No aspetta Non ti interessa Tanto hai ancora Venti secondi Eh invece Passano Anzi quindici Tu su corrente Lasciaci In pace Muoiti Ok ci sono Oddio continuo a prendere cose Non mi sembrate ben nascosti No infatti non siamo nascosti Da quello che stiamo facendo Non stiamo saltando Stai zitto Non mi sembra che siete ben nascosti Io lo sapevo già Posso andare? Posso andare? Sì sì Ok Perfetto Ti voglio fare una domanda Prima di iniziare a giocare Questa mappa Ciao Steph Espi ti prego Ciao Devo parlare con Fere Torna al tuo posto C'è una bella colazione All'inglese io e te Espi Espi torna al tuo posto Dai non fai ridere Il bacon non lo vuole nessuno E le uova nemmeno Che mi stavi dicendo Steph? Cosa mi stavi dicendo? Espi Cosa hai detto? Hai detto che cosa sono? Bravissimo Luca Fere Hai esplorato un po' la mappa prima di giocare? Ovviamente no Ok Allora ti dico soltanto una cosa C'è un passaggio segreto Luca così sta avanzando E così capisci È stato Espi È stato Espi Non è vero Aspettate Non è il passaggio segreto Non si vede Non è giusto però Non si vede tranquilli Torna torna Ok vai spingi Guardalo Guardalo Cosa state facendo? Dai Ok vai 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 Disgraziato Spingi spingi Allora ok Così così Basta 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 Fere ci stiamo barriccando Allora l'esercito di Mordor Preparati Preparati Allora noi siamo in una stanza segreta Che tu prima o poi scoprirai Che ho appena trovato siete qua Oh mamma mia No Non è vero Non è vero Siete qui da qualche parte No no Si è urlato Finissete qualcuno di questi blocchi Che dici Fere? Ti sbagli non ci siamo Corri 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 Ragazzi tutto ok? Tutto ok? Dove siete? È sulla parte Ti siamo passati davanti tutti e siamo usciti Fere Ma come è possibile? È perché non vedi nulla È certo ma tu hai idea cosa significa entrare in quella stanza e non vedere niente e avere tutti quei blocchi che si muovono? Certo l'abbiamo scelta apposta Allora dove siete andati? È non lo so Fere Comunque era questa la stanza segreta no? È quella è quella è bellissima è bellissima E Pia e Luca siete insieme? No Io no Io sono da solo Io sono in un posto brutto brutto Ognuno è da solo Dai ci siamo tutti abbandonati a vicenda Allora stai da qualche parte Sei una mucca? Aiuto Ragazzi Muggisci Stef Muggisci Venite a prendermi Sei questa mucca? Ho paura Ma muori? Cioè perché? Non sto prendendo danno con quello Fai il notte Steph Fai il notte Lo puoi corrompere Allora Stava sparando una mucca Mentre sono scappato Tutto a posto ragazzi Sì mi hanno preso danno io con quella mucca Come è possibile? Ok 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 Tutto a posto ragazzi Qui sotto Ragazzi? Tutto ok? Ma non lo posso prendere? Oddio 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 Come faccio? C'è qualcuno che si muove? No Ecco era Luca Accidenti Hai trovato Luca? Sì sì Dicevo c'è qualcuno che si muove lì sotto Non sentivo parlare Luca eravamo vicinissimi prima allora Dicevo me lo sto inventando Cioè com'è possibile? Ma non mi vedevi Luca? No Io ero lì fuori Cioè ero nella stessa stanza Però leggermente fuori dal lì sotto Ok fuori un Vabbè almeno uno Almeno uno Espy è passato Che c'è? Un livello superiore Un minuto e trenta Cioè Espy ha fatto un nascondiglio decente? È impossibile Maddona Per me ci sei andato te prima E lui si è ficcato Poi si è distratto Non è vero Non è vero Allora Espy dove mai sarai? Luca è molto lontano da me? Nessuna parte Eh no È vicino? Ti dico dove andare Non lo so Non lo so Qua a destra Qua? Ma no Ma dopo lo voglio riutilizzare Questo coso Dritto dritto Qui? Sì Ok Ok Ma non è là vicino Ditto 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 c'è Aiuto È di fronte a te È dall'altra parte No dai Quella Ok 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 ho capito Io non mi vedo È impossibile Ciao Espy ti vedo Non so dove Ciao Espy Ciao Sì Eravamo qui Ciao ciao Ma dai lì dietro non vale Però da con Ho guardato anche Non si vede nulla Lì dietro Dillo ad Espy L'ha inventato lui Non si vede da torci Io non ero Da torci in dotazione Io non ero nascosto lì Quindi ha imbrogliato Espy Siamo tutti d'accordo Luca sei d'accordo Espy ha imbrogliato Guarda che c'è la torcia Espy ha imbrogliato Io ero dietro il forziere Avete 35 secondi per nascondervi Oddio Adesso sono soltanto 32 No non vale Non abbiamo finito Ok Non sto guardando Non sto guardando Però sto iniziando a selezionare l'arma per spararvi Non so dove siete Questa mi piace molto Potete scivolare detto Espy Possiamo scivolare Ah Ho capito Cioè siamo su uno scivolo No quindi Sì certo E ci sono anche le altalene Dove si può scivolare una mappa del genere Non lo so ne a chi Io ti sto cercando di pensare dove sono Non mi viene in mente Siamo blu e scivoliamo Siamo blu e scivoliamo Gli siamo i puffi Non mi fido Non mi fido dei loro indizi Non mi fido Fairo e tu sei da sola Ok Vieni qua Troppo sempre Ma qui ci vedono Vediamo da questa parte Che indizio No sono disperato Che mi muovo Però secondo me li posso trovare Eh dai impegnati Impegnati Tanto se li trovi sono insieme Quindi ti fai doppia kill Vai vai Sto cercando di parare abbastanza Cosa stai combinando Sto guardando attraverso la mappa Non puoi guardare attraverso la mappa Stef non puoi fare queste cose Non puoi barare così No no infatti 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 Non lo stavo facendo scusate Vabbè assicurati che non stiano barando E vai a cercare No stiamo assolutamente barando Se ridete così però ragazzi Mi viene un po' di dubbio Allora Ma che dici Allora io ho mezzo visto una cosa prima Scusate un attimo Devo fare tutto un giro Devo fare tutto un giretto Bellino 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 La Fede non l'ha ancora vista Ed è incredibile questa cosa Magari mi hai anche visto Cosa ne sai No Ferre non ci ho visto Non è sicura Come si tornava lì Allora Sei vicino Sei vicino È vicino a voi Ma no Oddio sento sparare Boh Secondo me sono loro Io da qua vedo Una specie di pane In fondo Posso vedere Sì Che pane Ma Sì Che sembra che ci sia qualcuno Lì in fondo Sinceramente non riesco a vederlo bene Dal tuo schermo Ma non lo so Non lo so Non lo so Non lo so Vabbè Lascio perdere A questo punto Guarda sicuramente Non siamo un pane Ok Perfetto Ti hanno detto che sono blu Ho perso due mili Non mi fido Del fatto che siano blu Ah io non li ho visti E non so neanche cosa Voglio degli indizi Li pretendo Dato che state Buggando la mappa Pur di vincere Ho un buco Un buco Ho un buco Ho un buco Ho un buco Ma che indizio è Secondo te uno Adesso tu mi chiedi Ehi Terape dove sono Io ti rispondo Ho un buco E tu mi trovi E per farti capire cosa sono Ho un buco Ma non mi interessa sapere Cosa sei Mi interessa sapere dove sei Vabbè ma la mia forma Ti fa capire dove sono No Ma erano il pane Che vedevo io prima Cos'erano No 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 Basta Cos'erano Racconta Non lo so Allora Io non gioco più È rimasto traumatizzato No io Io non gioco più Ti ricordi quando ti dicevo Ho venduto il pane E non riesco a sparare Erano loro Perché non hai continuato a sparare Perché mi hanno detto Siamo tutta tranne che nel pane Ma scusa Ma ho detto prima Ci impassiamo Cioè per la prima volta Qualcuno è riuscito A trollare Steph Questo è un giorno No allora Questo è un giorno È un momento in cui Uno fa pure un mezzo bug Mi fido se mi dice Non sono del pane Perché dico dai Non saranno così cattivi Da mentirmi Dopo che fanno pure un bug Io comunque ero del pane Ma ero in una stanza in alto Dietro una cesta Non mi interessa nulla di te Avevi Cioè Espy aveva il buco Perché tipo si è messo davanti a me E ha presso il proiettile Vedi che mi avevo pure colpito Sì Aveva un buco E io no Io avevo detto Adesso lo giocate senza di me Ve lo dico Non a me frega più nulla Qua Buggano Mentono Se volete aggiungere altro Ditemi voi Andiamo Andiamo Voglio la vendetta Ok Ok Andiamo Forza 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 Che bellino è quello Fere Cosa Ah no Non ti sei trasformata Vabbè Seguici per ora Seguici Voglio essere quello che sei tu Non lo posso fare No Fere Però se entri dentro questa stanza C'è di sicuro Vieni Ok No no dove state andando Ah vabbè Eh sì Abbiamo bisogno di trasformarci Voglio essere questo È più carino Anch'io Andiamo Fere Andiamo 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 Luca dai Ah perché non mi fa Non mi fa Non mi fa Non mi fa Ok Corri Andiamo Se funziona Ok No vabbè Luca Sei il genio È il genio del male Però dovete ritappare Dovrebbe Dovrebbe Ok 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 No Ma quando l'hai scoperto Questa cosa Dieci secondi fa Oh mio Dio Espy Espy Dove siete Ti ricordi quando io a Fere Dicevo c'è un passaggio segreto Ecco Espy Sono due passaggi segreti No Già Noi siamo in uno E noi siamo nel secondo Ma quanto Quanto è facile Enorme Enorme Espy è più segreto del primo Davvero Guardalo Sta panicando Non sa che dire Guarda ti posso dire anche che siamo un pesce della carne e delle forbici per pecore Perché tanto non ci trovi Delle cesoie Delle cesoie esatto Non forbici per pecore Forbici per pecore non credo esistano Esatto Salve Cosa Ragazzi Ma com'è possibile No ragazzi com'è possibile sta cosa Corri Scappa 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 Com'è possibile Non è un cheater Luca Luca come è possibile Corri Non lo so Luca Ma Ma come non riesco a uccidere le cesoie Vai Fere Allora è il box troppo piccola No Espy Allora come facevi L'ho scoperto anch'io prima nella mappa Ciccina No Che figurazza Però dai Che figurazza Non ti puoi nascondere così adesso Io ero felicissimo ho detto il nascondiglio della vita questo Cioè capito che lui scopre le cose Eccolo Allora doveva essere la mia rivincita Invece è diventato figo Espy Espy Capite Si sta facendo Sta facendo notare finalmente Espy Che ti devo dire Cioè doveva essere il nascondiglio più bello E ci ho trovato in 0 secondi Sono sconvolto Sono sconvolto Cioè qualcuno chiami un'ambulanza Perché sono sconvolto Comunque vorrei anche far capire che Espy Trova il nascondiglio e fa finta di nulla E non dice niente Sì esatto Esatto Perché tu gli hai anche detto il secondo nascondiglio segreto E lui ha fatto finta di nulla Comunque vi dico C'è il terzo Ma non ho capito C'è il terzo nascondiglio segreto Ma non ho capito come ci si accede Direi che ci siamo per me così Perché questo video è stato davvero fantastico Allora Subito una cosa Commenti e sondaggi Per farci sapere se volete vedere altre mappe di Minecraft Perché mi sa che ce ne sono Tipo 5 Esatto 10 Non so quante sono Sì 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 Sono tante E se tutte hanno delle zone segrete Sono di un divertimento incredibile Quindi fateci sapere se vi sono piaciute Che nel caso ne cerchiamo altre Sia per Propant Che su Idenseek Qualunque tipo di modalità Un po' per tutto E vi iniziamo a dire Che la prossima settimana Potrebbe uscire Una nuova modalità di Gmod Nuova nel senso che non l'abbiamo mai fatta Non che nuova Certo Che vi potrebbe piacere tanto 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 Provate a indovinarla nei commenti Sono curioso Secondo me non la indovina nessuno Ma secondo me vi piacerà tanto 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 Per ragazzi Se vi lasciate un like E se la prima volta che vi vedete il nostro video Potete considerare l'idea Di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao 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 Grazie a tutti.